Ciao, sono Giulio Cabocci e oggi ti parlo di illuminotecnica, un parolone che sta per le tecniche di illuminazione. Molti dicono, ah che belle luci che utilizzi. Sì, buona attrezzatura, vi ricordo che in descrizione trovate tra tutte delle ondine quelli che sono i link ai miei social e sotto tutto l'elenco della mia attrezzatura. Io utilizzo un faretto a led della Godox che costa sì sui 130 euro, se non mi sbaglio, ma in realtà con qualcosa di molto economico, che adesso vado ad accendere, luce troppo pradente, questo sistema qui si chiama AMZ Deal Softbox Kit, costa 30 euro, anche di questo come sempre il link in descrizione. Ed è un prodotto che per iniziare a sperimentare con l'illuminotecnica è davvero l'ideale. Infatti in questo video inizio dall'unboxing, dall'assemblaggio, ma poi vi mostro anche ben 5, avete sentito bene, 5 schemi di illuminazione differenti che si possono realizzare utilizzando questo economicissimo kit. Andiamo! bene, cosa abbiamo all'interno? Giustamente dentro questa bella custodia nera c'è il Softbox con il panno diffusore, l'alimentazione, quindi qui all'interno sicuramente c'è l'attacco porta lampada. Tra poco andiamo a vedere come si monta. Poi, dentro questa scatola bianca, presuppongo sì, giustamente ben protetta, la lampada. Dichiarata fotografica da 5.500 KW, 135 Watt, quindi consumicchia comunque, 50-60 Hz. Ok, le istruzioni, il francese, oh la la, sì, sono in francese. La Softbox fait partie de l'equipement quotidien de photograph, mais oui. Sì, ha fatto anche un po' di francese, alle elementari e le medie, giustamente cosa manca? Eccolo qui, il piccolo stativo. Andiamo un po' a montare il tutto. Iniziamo giustamente dallo stativo che c'è poco da assemblare, semplicemente va preso e allargato. Leggerino, ma in fondo anche il Softbox con la lampada sono due oggetti leggeri. Lo blocchiamo bene. Qui sopra abbiamo una sezione e due sezioni, quindi può anche andare bello alto. Non esagero, sennò non entro nell'inquadratura. Prendiamo il Softbox che ha letteralmente un meccanismo a ombrella, quindi lo andiamo ad allargare la parte argentata e spingiamo questa parte interna finché non diventa concentrico. Sarà difficile farlo e farvelo vedere, ma diciamo che andiamo a spingere. Ecco, questo deve essere il risultato, vedete? La parte in plastica deve essere concentrica rispetto al portalampada. Qua dietro abbiamo una vite che permette di regolare l'inclinazione e una vite da allentare, questa qui, che vedete apre un buco su cui andare a innestare, cioè da allentare bene. Ecco, inseriamo e blocchiamo. Poi con quest'altra vita è qui, possiamo regolare l'inclinazione, quindi puntare in questo caso in avanti, come voglio io, il Softbox. Andiamo a prendere il telo bianco, che è quello che diffonde giustamente la luce, che se vedete ha un bordino nero tutto intorno già pronto e all'esterno, gualzato troppo, lo abbasso un po', se no appunto esce dall'inquadratura. Eccolo qui. Intorno al Softbox, vede, ci stanno queste parti in velcro femmina, mentre qui ci sono le parti in velcro maschio. Quindi, un attimo, vedrete solo le mie gambe, ma le andiamo appunto a posizionare agganciando il velcro. Non aggancio tutto, perché cosa manca? Giustamente, sì, senza questa non funziona nulla. Davvero è cicciottona, non so se andrà a sporgere o no, invece va bene. Quindi agganciamo gli ultimi angoli, sempre assicuriamo che la velcro abbia fatto presa, non si rompe nulla, è soltanto perché quando la spostiamo almeno non vola via. Fatto. E' fatto. A questo punto, attacco la spina e vediamo un po' di set di illuminazione. Andando a leggere l'esposizione a distanza di un metro e mezzo, vediamo che abbiamo un EV 8.1 a 200 ISO. Andando a vedere quanto corrisponde su un tempo di esposizione, se scegliamo un tempo di un sessentesimo a 200 ISO, servirà un diaframma F2. Ma se comunque andiamo a salire, tipo andiamo su un 800 ISO, potremmo scattare a un sessentesimo F4, quindi effettivamente non è malvagio, ma dicevamo set di illuminazione. Primo schema, il cosiddetto schema del vigliacco, perché luce schiaffata in avanti, come potete vedere da questo piccolo grafico, quindi il softbox è collocato a fianco alla fotocamera, alla stessa distanza della fotocamera dal soggetto. L'effetto lo vedete subito sui miei occhiali, c'è un netto riflesso perché la luce è proprio diretta in volto. Potete anche vedere l'effetto dell'incarnato, non è malvagio, leggermente più freddo, quindi secondo me siamo appena sotto i 5500 gradi Kelvin. Ma passiamo a vedere subito il secondo schema. Eccoci qui. Cosa è cambiato? Se guardate il disegnino è cambiato soltanto una cosa, ho tolto il telo diffusore praticamente davanti al softbox e quindi cosa otteniamo? Una luce più forte, infatti le esposizioni sono dovute scendere di due terzi di stop, quindi il telo bianco fa due terzi di stop e la luce più dura, più rock se vogliamo, adatto lo sfondo appunto con Pink Floyd, Jetrotal e batteria elettronica e le ombre sono leggermente più evidenti perché appunto non c'è il telo davanti che diffonde la luce, questa luce è bella croccante addosso. E adesso terzo schema. Eh sì, adesso cominciamo a fare le cose anche abbastanza fighe. Come vedete dal disegnino, pratica il softbox è qui a fianco a me a 30-40 cm di distanza e quindi cosa c'è? C'è la caduta di luce, vedete? Questo lato è bello luminoso, quest'altro è subito molto molto buio. Semplicissimo, forte luce vicino, niente dall'altra parte, si crea questo effetto molto molto drammatico. E adesso quarto schema. Bene, adesso la luce è passata dall'altra parte, come vedete dal disegnino, però effettivamente è grossomodo a 45 gradi sulla mia destra, ma di qua comunque ci sono le ante del mio armadio bianco, quindi vedete questa parte è illuminata, questa è più scura, ma comunque c'è un po' di luce che torna dall'armadio che fa da pannello riflettente e crea un effetto di luce effettivamente morbido, molto piacevole. E guardate sugli occhiali, se io guardo direttamente verso la telecamera non ci sono riflessi. Quello che succede, vedete, è se giro la testa verso la luce i riflessi compaiono. Per dirvi, se dovete lavorare intervistando una persona che ha gli occhiali, questo è uno schema perfetto. Ma andiamo a vedere il quinto e ultimo, il più drammatico. Bene, questo effetto è davvero particolare. Io sono messo di profilo, come vedete dal disegnino rispetto alla fotocamera, e la luce è esattamente a fianco a me, lo vedete qui con la mia mano. Un effetto cosiddetto silhouette, guardate poi che effetto stranissimo che fa sugli occhiali, insomma, può avere il suo fascino per delle situazioni molto drammatiche. Ma questo è il momento, sì. Mentre giocarello con la mia barba, passiamo giustamente alle pagelline. Fighissimo l'ultimo schema, vero? Sì. Anche se è un po' fastidioso perché quando si sta molto vicini a questo faretto, la lampada si scalda. Vi faccio vedere qui la lettura al termometro, vedete che supera i 70 gradi. Non c'è un avvento di raffreddamento come invece sui miei faretti della Godox. Ma andiamo in dettaglio a vedere cos'è che mi piace. Allora, la prima cosa da dire è che è un sistema leggero, cioè davvero sollevarlo, portarlo in giro, specialmente quando è richiuso, davvero non saranno neanche un chilo e mezzo di materiale. Quindi una cosa che se dobbiamo andare a fare un'intervista, una ripresa veloce e vogliamo una bella luce, è un oggetto da mettere davvero in spalla e si va via tranquilli. Seconda cosa, si apre in maniera molto semplice. Io mi ricordo il mio primissimo softbox in ambito fotografico, un attacco Bowens. È stato così difficile aprirlo con queste stecche di metallo che andavano incastrate a forza, che una volta assemblato non l'ho più smontato. Sono dieci anni che il mio softbox sta montato lì fermo in mobile. Ultima cosa, me l'ho detto anche in apertura, in questo momento costa, vi ricordo sempre il link in descrizione, 29,99€, quindi per 30€ stativo, softbox e lampada, tutto pronto, semplice, economico, con tanto di piccola anche custodia per non far rovinare la parte più delicata che giustamente è il softbox. La lampada, se si fulmina, si ricompra e potete anche prendere di potenza maggiore, minore e magari con un bilanciamento del bianco anche più preciso. Ma passiamo invece a cos'è che non mi piace. La prima cosa è che non c'è un dimmer, quindi non possiamo prendere e renderlo un po' meno luminoso se ci serve. Non è potentissimo, però insomma, se vogliamo diminuire la luce, l'unica cosa è giocare con l'esposizione sulla fotocamera. Seconda cosa, il cavo in dotazione, ragazzi, è davvero un bel po' cortino. Saremo un metro e mezzo insomma, non di più. Quindi la prolunga diventa non un'opzione ma un obbligo. Ultima cosa, se noi vogliamo ruotarlo orizzontale non è possibile perché la staffa dietro è fissa. L'unico modo per mettere l'orizzontale è come ho fatto io, cioè smontato dallo stativo e appoggiato sopra il ruppiano per avere un taglio di luce appunto orizzontale invece che verticale. Bene ragazzi, spero che questa recensione vi sia stata davvero utile, specialmente per chi vuole iniziare a giocare con dell'illuminazione fatta bene sia in video che in fotografia. Butto l'albero una volta, ragazzi, ricordatevi di iscrivervi e mettere il campanellino e quindi ciao a tutti e al prossimo video.